Emergenza Santissimo Rosario di Venafro, il Consiglio Comunale tornerà a riunirsi già il prossimo 3 ottobre per affrontare e decidere quale atteggiamento adottare nei confronti di un piano sanitario, quello proposto da Basso, rinegato da tutti ma che comunque prevede il sostanziale smantellamento dell'ospedale venafrano. La proposta, quella di Basso per intenderci, viene respinta da tutti, regione compresa, ma carte alla mano e un atto ufficiale potrebbe essere modificato solo con l'intervento del Consiglio regionale. Sarà possibile? Chissà. Per questo motivo l'agitazione a Venafro è enorme. C'è stato il Consiglio Comunale aperto dell'altro giorno dove il Comitato Santissimo Rosario ha chiesto il ripristino di un pronto soccorso funzionante con la riattivazione di almeno due posti letto di rianimazione. C'è chi come Frattura nella stessa sede ha chiesto scelte condivise parlando di un tavolo permanente per affrontare la questione sanità con il contributo di tutti. Intanto prende posizione anche l'assessore Scarabeo affermando che oggi, alla luce di ciò che è stato concordato con il Comitato Santissimo Rosario e con il Governatore Frattura, l'ospedale continuerà a esistere ed operare anche se oggetto di una rimodulazione della propria offerta sanitaria. Il mantenimento del pronto soccorso, dice Frattura, il Day Hospital, la possibilità che anche altre specialità mediche come radioterapia e Alzheimer, l'istituzione di corsi di infermieristica e corsi universitari specifici possano rientrare nell'offerta del Santissimo Rosario, non andranno a oscurare il lustro del nostro ospedale se all'orizzonte la politica sarà capace di organizzare una rete ospedaliera regionale di qualità. E intanto anche il Sindaco non sembra disposto a fare sconti a nessuno in difesa del Santissimo Rosario.